dieci chilometri di rientro col ghiaccio al tempo ragazzi diciamo che l'ascolto col ghiaccio è molto duro molto duro fa molto male cautela e no freni speriamo bene non vi vorrei far divertire troppo una lata oh iuhuu no freni no freni saremo per i cazzi sui i treni ghiacciati ahahahah ahah ah not Sì Buco! Ayo! Ah no! Ah! Vai! Grande! Ciao ragazzi, alla prossima!